Siamo in un Tag Team Championship Elimination Tag Arbitro Speciale Io e Lord Sirius siamo Big Show e Rey Mysterio Contro Roman Reigns e l'altro che è, Satan Rollins E l'Ambitro Speciale che è Dean Embro E praticamente sceglierà lui le regole Se noi schieniamo loro due magari lui potrebbe non contare Cagatevare potrebbe eliminarci senza motivo Non so, cagatevare E questo è un match per le cinture Quindi possiamo partire? O devi scegliere qualche cosa? Ok Per dire le azioni su Ring come arbitro speciale Decidi se essere imparziale o aiutare uno o più avversari Come hai detto prima Il match è nelle tue ma Peccato che però stavolta siamo noi Ora qui praticamente ti spiego il punto Questo è il mio Ah ragazzi Allora ho un problema con GTA 5 Perchè non mi fa iniziare una nuova partita Non so perchè si blocca Quindi Se volete quel gioco, se volete il gameplay sulla storia di GTA 5 Useremo poi l'Xbox di Lord Sidious per registrare i video Ebbè tanto adesso è collegato Facciamo dopo? Ok facciamo dopo Sistemato Sistemato Vedremo anche in HD Esattamente Usciranno Assassin's Creed Cioè è già uscito Assassin's Creed E' già uscito Battlefield E' già uscito Battlefield E' già uscito questo qua Cioè uscirà E' già uscito questo Dopo questo uscirà Grand Theft Auto Perfetto Andiamo avanti Che sennò qui cagano Cagano le balle Entremi insieme no? Si entremi insieme Quindi facciamo vedere l'entrata con le due cinture Una cintura tessuto упostilato Traffetto auto In Ligầ Tre Maschino ha Quного Sostune Tollano Sono La Duolo Ma aspetta ma l'alte tivero Di Ah già è l'albitro Rice posture Sì 2 due flipping insieme mezzo quanto sei bella amico perchè lui c'ha una cintura perchè perchè c'ha una cintura fatemi capire nooo a chi contro chi era nessuno non ce l'aveva nessuno la cintura non ce l'aveva nessuno la cintura ok ma possiamo andare avanti era lì in paio ok vuol dire che i cosi sono veramente come nella realtà eh meno male figo cinture adesso scappa tipo ce l'ho sfigati cinture in vendita c'è lo che eh elimination vuol dire che se uno di noi due viene schienato non è che si perde si continua peccato che però poi vuol dire che si perde perchè sarebbero 2 contro 1 3 contro 1 è vero la survivor serie erano 5 contro 2 amiche di oro ah perchè li sono già selezionati qui ecco ma perchè porto sempre io a prendermi le botte ecco ahhh di chi mancherà no no non finchiamola ahhh di chi mancherà no no non finchiamola oh vieni vieni all'angolo Mario veloce 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 eh non hai la massa sospettata no è vero eh come faccio seguire sull'angolo con devi fare ma che cazzo non te tu ti devi scaldare da un po' che non giusto Uyaka Fascia non pace il mio amico Uyaka'ya eeee oh oh no stavo per ah tanto non c'ho tanto non avevo l'altro la cosa ah se fai a quando sto all'angolo ah se cosa dia ministro c'è ma veramente no ma no ho sbagliato non volevo farlo no volevo veramente volevo portarlo l'angolo prima ah ecco ok non mi vedo poi ti esci o io esco io esco devo uscire scuro? mi hai dato il cambio ma vero di cambio sono sempre se non vede le bt. cosi cosi no si è spostato la fine no cazzo potete dirlo prima che lo lanciare BAM! ah bastardo di merda non c'è io ah ah dimmi quando vado a mano eh perchè si tratta esce ma no dovevi uscire solo ok chi ti evo chi ti evo chi ti evo no non lo prendo no dimelo prima ma bello che non erano neanche uscite no no eh vabbè 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 Scusate che cerco di andare dall'altra parte. Ma cazzo si corre qua? Ah no, l'avevo trovato, l'avevo trovato. Oh, quando vuoi la mano, fammi la mosse. Sì, fammi la mosse. Ho sbagliato. No, no, esci, no, cazzo, entra, bimbia di puttana. Bastardo, ecco appunto, quello che stavo dicendo prima. Un po' che parole lui a questo punto sarebbe avrebbe ceduto, avremmo, sono stati due contro uno, ma c'è l'abito di merda, Bastardo. Oh, vai all'angolo. Vai all'angolo. Vai all'angolo. Esci, esci. Scusate, ok. Ma stai lì, non ti muovo. Forse era meglio. Ok. Eh, non ho potuto evitare. Questa c'è abbastanza male. Questo fa abbastanza male. Eh, non riuscivo a uscire, ok, ce l'ho fatto. Questa abbastanza male. Questa abbastanza male. Questa abbastanza male. Questa abbastanza male. Buonissimo. Si va abbastanza male non è possibile, però. Ma che cazzo è. Come buonissimo. ascolto ma l'ha si roma l'ha piaciato pugno infante pagina cazzo fa cazzo mi sono persi nonostante per l'aria no no no, ha la mossa speciale quel film contro mossa fina no, me l'hai tolta va a fare la contro mossa fina vai, tieni l'occupato bastardissimo ha la mossa speciale no, no oh cazzo grazie eeeh dovresti nooo eeeh lo so sai che finisco fuori da re possiamo di finire fuori da re dai o bastardo iniziava col te veloce sto figlio di puttana oh pezzo no no tu fai la mossa finale c'è la mossa finale si la mossa finale che bastardi di merda che bastardi di merda i miei di puttana ttana eeeh lo so se avete notato ma no no che scatti sti schidi di merda ma è pazzo eh e si sta ascoltando veloce contro il suo mico allora calma ma adesso adesso li facciamo la mossa finale eeeh già mi dico che si fa così la mossa finale aspettate ma eh non mi rialzo ma faccio la mossa finale metto l'angolo metto il cambio ok vai la arriva lì ma anzi no rimani lì si specchia la mossa finale mi spiace mi spiace hai visto hai contato piano ma il tuo amico rito per terra vai vai all'angolo con becco che minchia ma che cazzo mi spiace mi spiace spera che la porta all'angolo non mi viene nulla se non ho la mossa se non è la mossa no vabbè ma per fare il tag eeeh vai sali eeeh non mi sale oh 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 che cazzo è nooo misteriosi in un buon modo eeeh si magari forse dopo lo punto all'angolo il cd il cd il sd a riuscire ho cercato il cd il cd il cd il cd ok spesso attuale ma l'affanculo dio mio no 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 che grandissimo nooo cd il cd il cd il cd il cd il cd il cd spesso appoggiare l'angolo non mi trovo che spesso non schiena toh pubblico che fa solo se riesco qua speciale poi la fai all'angolo va bene 12 minuti tt che cazzo su una mano di un'epidemia non è che pesa di schiava no no che cazzo di gioco e' tutto valido no si fa ti sta sbagliando un po' di cosa ma se io picco l'albitro e allora non lo faccio come madonna il cazzo di gioco oh bastard la violenza la violenza no non lo faccio non lo faccio come qui no non lo faccio uuh uuh no no mi sa che non chiede schiagli tutti ti quasi insieme cosi non lo faccio non lo faccio non lo faccio ma comunque lo rallenta non lo faccio appunto vedi è un gioco questo io che cazzo non lo faccio ma se vabbè va dai dopo no vabbè va dai e' troppo sopra sui sui cazzo si cerca di niente sali su sto cazzo di ring storia storia cittadini non riesce risultati non sono stanchissimi l'ho detto il si fa se ci ha detto il posto ma come fa ma come fa le fai il fai il fai il fai il fai si lo dà però è possibile che sia sempre il fai il fai il fai il fai il fai la scena il tuo tuo mio la scena adesso ti alzi brutto pezzo di merda no ma dai ho già un po' di scappato no dai io ero stanchissimo perché sei un idiota scherzo 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 no no perdiamo le cinture ok 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 sto sudato ragazzi ok no 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 qui perdiamo le cinture ok ok scherzo scherzo ok 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 controvosto molto bene non vedo niente c'è giusto no quel che figlio di puttana oddio oddio no sto per cedere oh mio dio mi ha perso le cinture oh mio dio mi ha perso le cinture oh non ci credo non ci credo oh mio dio no sono senza parole ah si cioè allora sei prese da tutti quell'uomo ed è sempre rimasto in piedi ma vabbè a parte che poi il mio amico uomo volante si lancia dal ring dalla testa corda fuori dal ring va bene va bene lo stesso poi tipo è rimasto sotto al ring tipo ma cazzo vabbè le riconquisteremo eh le riconquisteremo sti cinture vabbè vai a fa culo va sparisce sparisce dalla mia vista di merda vabbè allora ragazzi per questo video è tutto noi ci salutiamo con un prossimo video no anche lor sirius mi saluta che è lì che sta dicendo nooo ok ragazzi noi ci salutiamo ci vediamo al prossimo video bye bye